Certo che arriva, arriva la Befana, la Red Odese, anzi perché in Venezia c'è la Red Odese, arriva sopra il cammin e porta frutti, roba dolce e savoria. Arriva soprattutto per il bambino, la Befana sempre da noi c'è. La calza verrà appesa. Per tutti. Per tutti certamente, buona giornata e buona ambifania a tutti. Ha ancora senso questa tradizione contadina che si allaccia? Assolutamente sì, io vengo da un paese di campagna, quindi è sempre importantissimo andare a bruciare la vecchia e tutto quello che ci sta dietro, quindi sì, decisamente sì. No, ha senso conservarla per la tradizione e magari il momento che si può spendere in famiglia o anche viaggiando come faccio io? Sì, in quei tempi avevo due anni, due anni e mezzo e quel profumo di cioccolata ci risvegliava e poi troviamo il solito mandarino normale con i semi perché noi mandavamo già tutto a quei tempi. C'erano le carobole, carbone vero, non quello adesso zuccherato e quattro bagli. Quindi era la calza? Sì, sicuramente, sicuramente. Quella della nonna ancora, quindi la tradizione c'è, non manca, rivisitata ma non manca. Di solito cosa si trova dentro? È un po' dispettosa la Befana. Sì, no, si trovano dolciumi, siamo buoni di solito, quindi dolciumi e magari qualche accessorio utile per i bimbi come dei calzini o qualche capo d'abbigliamento. È un buon pretesto per mettere una calza in più? È un buon pretesto per fare un pranzo magari, come regali, mi sa che abbiamo già dato. Allora, la ricetta cosa si mangia all'Epifania? Guardi, in casa mia quest'anno è un arrosto di uccelli, quindi la facciamo in grande, approfittiamo che il Natale ci ha riempiti, però vogliamo comunque stare insieme. Chi si merita il carbone quest'anno? Chi glielo dà? Consiglio alla Befana. La Befana è saggia, saprà a chi portarlo. Beh, senza voler fare della facile retorica, di sicuro quei potenti che non riescono a dialogare, che non riescono a trovare la soluzione a problemi seri. Chi si merita il carbone quest'anno? E chi lo sa chi se lo merita? Io no, tu te lo meriti, Octavia il carbone? No, neanche Octavia se lo merita. Ma io penso che sia più che altro una festività più per i bambini in realtà che per noi adulti, poi noi lo portiamo avanti per i nostri figli, però penso sia un po' questo, per dare un po' di magia ancora ai bambini, perché finché si è piccoli si ha bisogno di magia, insomma. È un po' un qualcosa di magico che sarebbe un peccato togliere alle nuove generazioni, quello sì.